non credo io davvero non credo che succederà non si sa si vedrà non credo sai io davvero non credo di vederci perché è meglio sì è meglio è meglio per te e per me ma siamo collegati questo è un dato di fatto collegato con le anime con la filosofia con il nostro humorismo con l'amore batinic questo è certamente un bene può essere confortante non credo io davvero non credo che succederà non si sa si vedrà non credo sai io davvero non credo di vederci perché è meglio sì è meglio è meglio per te e per me ma siamo collegati questo è un dato di fatto collegato con le anime con la filosofia con il nostro humorismo con l'amore batinic questo è certamente un bene può essere confortante nel mondo con l'amore con l'amore inammurarsi Grazie a tutti.